L'immobiliare Medusa, società del gruppo imprenditoriale Tomasi Case, è stata assolta con formula piena dalla Corte di Appello di Bologna, che ha riformato l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara, assolvendo gli imputati perché il fatto non costituisce reato. È stato quindi revocato il sequestro preventivo delle villette del Residence Regina Mare e del Lido di Pomposa, disposto dal Tribunale di Ferrara in data 28 febbraio 2017, con provvedimento immediatamente esecutivo. Una sentenza di assoluzione con formula piena che la famiglia Tomasi era certa sarebbe arrivata e che ha così commentato ai microfoni di Terrestense. Non ho mai avuto dubbi perché, anzi, sono rimasto molto sorpreso della sentenza che è stata a nostro sfavore, perché sequestrare delle case alla luce del sole che fin dal 2003 avevamo chiesto le concessioni, ci vengono rilassiate tre anni dopo, dopo essere state esaminate da tutti gli enti della provincia, dal comune, da tutti gli enti competenti regolari, insomma. Io faccio il costruttore, mi fido, do in carico dei più grandi professionisti che io credo e giustamente loro fanno le sue carte come si devono fare e ottengo la concessione dopo un anno, due o tre o quattro, il tempo che il comune ci mette e una volta che mi rilassi una concessione regolare, timbrata, esposta, esposta e stipulata anche davanti a un notaio. Per me è legge. Sicuramente era una sentenza che ci aspettavamo perché, insomma, eravamo fermamente convinti da sempre della regolarità di tutto il nostro operato amministrativo e non solo, che pone fine a questa vicenda che ci ha visto noi coinvolti con delle ingenti difficoltà che abbiamo subito, con delle ingenti difficoltà dovute al fatto appunto che tra l'altro proprio questo sito è un sito per noi molto importante, strategico, un residence che ben si inserisce a pochi passi dal mare in questo territorio, dove abbiamo molto investito sia per la costruzione sia per rendere attrattivo dal punto di vista turistico, tra l'altro molto gradito al turismo italiano e straniero e quindi questo effettivamente ci aveva messo molto in difficoltà. Oggi, perché la sentenza è direttamente efficace, quindi siamo ritornati in possesso, ripeto, non avevamo dubbi di questo, però abbiamo chiuso questa vicenda, siamo tornati in possesso delle nostre unità e quindi possiamo andare avanti con i nostri piani di investimento in questo territorio, insomma, che era appunto, è stato per noi appunto l'assurdo che una società come la nostra, che ha sempre fatto dell'immagine, della serietà, che soprattutto negli ultimi anni sta cercando di investire in questo territorio, cercando di conservare anche le bellezze naturali, inserendolo in un contesto turistico insieme alla recettività, questo era una spada di di Damocle che non accettavamo assolutamente e quindi adesso c'è un nuovo inizio e possiamo continuare con, diciamo, la nostra filosofia aziendale e andare avanti con i nostri investimenti.